Scopri le incredibili opportunità con il nostro corso gratuito di addetto amministrativo segretariale. La prima edizione è iniziata da poco, ma non preoccuparti una seconda edizione inizierà a giorni. È l'occasione perfetta per migliorare le tue competenze e aprirti a nuove opportunità di lavoro nel settore privato o pubblico. Visita i nostri social e il nostro sito web per scoprire tutti i dettagli sui nostri corsi gratuiti e a pagamento, progettati appositamente per te. Cerca Assomè su Google e sulle principali piattaforme social per rimanere aggiornato su tutte le nostre iniziative. Siamo a Messina, accanto alla Ovese in piazza Cairoli, sopra il KFC. Vieni a trovarci in sede o seguici online. Assomè ti aspetta.